Ora, solamente le case giuste hanno ancora un valore, noi gli agensi immobiliari sono ancora un po' in crisi. Non state ripienzendo? Ci tramini di tanto nella volta, come mi piacerebbe ripienzere. Il suo buon lavoro Matteo, si è fatto grande, ha fatto pura barba, per lui le femmine è come se non esistessero però... E' tardivo, Don Gena è tardivo. I nostri amici della compagnia Stabile di Città di Sanremo e anche la città di Sanremo che ha organizzato questo evento per noi e per voi. Quindi è stata una cosa splendida. Perché? Tu lo sai perché?